ci sono importanti novità per quanto riguarda il contributo a fondo perduto del 40 per cento che la regione friuli venezia giulia ha stanziato per impianti fotovoltaici e batterie d'accumulo ti parlo direttamente dal parcheggio di udine della fiera casa moderna sai che questo contributo va a sommarsi anche con il 50 per cento delle detrazioni fiscali per arrivare quindi fino a un 90 per cento il bando è stato senza ombra di dubbio un successo con oltre 10.000 domande liquidate o in fase di liquidazione si avvia verso la sua conclusione in parte legata all'avvicinarsi dell'esaurimento dei 100 milioni di euro stanziati e in parte anche all'avvicinarsi della data del limite che era stato messo della domanda che era il 15 novembre ma ci sono due grosse novità una forse l'hai già sentita il bando verrà ripresentato anche per il 2024 l'importo totale del bando non è ancora ufficiale anche se si parla comunque di cifre sostanziose chi quindi per vari motivi non è riuscito ad usufruire di questa incredibile opportunità potrà dire bene il prossimo anno non me la faccio scappare ma qui entra in gioco la seconda novità e ve la voglio leggere direttamente dal sito della regione e andiamo nella pagina del bando della regione appena lo si apre hanno messo questo avviso che vi leggo testuale si comunica che nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire le domande presentate entro il 15 novembre 2023 queste potranno essere soddisfatte con le ulteriori risorse che saranno stanziate sul bilancio regionale nel corso della 2024 ecco allora che chi usufruisce dell'incentivo ora non ha il rischio di rimanere a bocca asciutta come nell'incentivo quando è partito a febbraio di quest'anno è andato a coprire prima gli impianti che erano stati installati da novembre 2022 anche il nuovo incentivo del 2000 della 2024 andrà prima a coprire gli impianti che sono stati incentivati in questo anno con precedenza per questo anno sono sicuro che anche qualcuno che sta guardando questo video si è fermato da fare l'impianto per la paura che i fondi finissero prima di aver caricato la domanda bene questo rischio è scongiurato quindi se vuoi eseguire il tuo impianto ora e non aspettare l'anno prossimo e quindi usufruire dell'impianto fotovoltaico e quindi dell'energia gratuita del sole anche in tutti questi mesi che ti aspettano invito a compilare l'autoanalisi energetica che trovi in descrizione un nostro tecnico ti contatterà e insieme a lui potrai progettare l'impianto adeguato alla tua abitazione e quindi su misura per te e la tua famiglia ti ricordo che anche se l'investimento da parte tua è minimo è importantissimo che ti rivolge ad aziende specializzate anche i materiali che andrai a scegliere sono importanti non è vero come ho sentito dire da qualcuno che alla fine i materiali sono tutti uguali ricorda che l'impianto fotovoltaico nasce per rimanere più di vent'anni sul tetto di casa tua l'incentivo è generoso e ti permette di installare nella tua casa il meglio che offre il mercato dal sole in tasca un saluto ciao